Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Firehash, io sono Glaciosphere e in questo episodio andremo avanti verso Frescovilla, quindi lungo il percorso 15 e arriveremo appunto a un villaggio chiamato Frescovilla, qui a Kalos. Nel frattempo io prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel vi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici e le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco Pokémon di questo tipo. Nel frattempo vi ricordo anche che nello scorso episodio abbiamo battuto la capopalestra di Romantopoli, la città in cui siamo adesso, ovvero Valery, Valery mi sembra si chiamasse sì, la capopalestra è tipo Folletto, ed ora con se non sbaglio ben 6 medaglie, diamo subito un'occhiata, 6 medaglie di Kalos perché abbiamo la Bug, Cliff, Rumble, Plant, Voltage e Fairy, quindi 6 medaglie di Kalos, stiamo per andare avanti nella nostra avventura. C'è però il buon Sawyer, o Sandro credo sia in italiano, che blocca il passaggio perché vuole sfidarci di nuovo, chi siamo noi per dirvi no? Nessuno, quindi mettendo avanti il nostro Greninja e andiamo a sfidarlo. Salve, you beat the gym already? Hai già sconfitto la palestra, davvero, sei davvero forte, e mi sono allenato un po' anche io. Permettimi di dimostrartelo, vai, dimostrami quanto ti sei allenato, caro Sawyer. Eccoci qua, Begon. Greninja, andiamo, ok, Ice Beam. Nel frattempo ragazzi, mentre combattiamo contro Sawyer, permettetemi di fare un pochettino di pubblicità, non tanto a cose esterne, ma alle altre serie che sto portando su questo canale. Vi assicuro che ci sono dei videogiochi fantastici, ma magari voi non li conoscete. Per esempio, Pentiment è un'avventura grafica, con un nome potrebbe dire, a che palle le avventure grafiche, anche a me non piacciono generalmente le avventure grafiche, tipo Grim Fandango, Monkey Island, Full Throttle, Deponia, quello che ho detto prima che mi vengono in mente. Solitamente non è che mi piacciono tanto, non sono particolarmente attratto da questo tipo di giochi. Pentiment è una mina. Vi consiglio di andare a vedere almeno il primo episodio, per farvi un'idea. Lo trovate ovviamente tutto su questo canale, basta cercare Pentiment. Ed è davvero bellissimo. Anche High on Life. Questa sta andando probabilmente anche in questo momento. Ed è davvero figa. Ho apprenduto tanto in queste battaglie che abbiamo avuto. Voy a andare a Kurmarine City e provare la gym là. La prossima volta ti vedo, spero di essere forte. Ok, questo andrà a provare in una delle palestre che noi abbiamo già affrontato. Se non sbaglio quella di tipo erba. E ci raggiungerà più avanti per farci vedere quanto è diventato forte. Nel frattempo fatemi andare un attimo a curare i Pokémon come ne andare avanti e andiamo qua nel percorso 15. Vi stavo dicendo High on Life è un videogioco creato dal co-creatore di Rick e Morti. Se siete fan di Rick e Morti, se vi piace quella serie animata, date una possibilità ad High on Life. Andatevi a vedere il primo episodio e giudicate voi se l'umorismo che c'è in quel videogioco vi piace o non vi piace. Io ve li consiglio solamente. Allora diamo un'occhiata un po' a questo percorso. Vediamo un po' cosa si trova. Si trova un fungus. Quindi faremo fuga. Addio. E qui sotto vediamo un po' cosa c'è. C'è un ovetto! Ma certo che vogliamo prendere gli ovetti. Come sempre gli ovetti si prendono. Vediamo un po' chi uscirà dall'ovetto eh. Un Klefki! Attenzione! Nuovo Pokémon! Da prendere assolutamente! Anche perché è uno stadio unico quindi un bel Pokémon che si prende, si mette nel box, si dimentica. Dal design davvero orribile. Scrivetemi nei commenti se c'è qualcuno a cui piace Klefki perché ovviamente sono tutti gusti personali. Io lo trovo orribile, però magari c'è qualcuno di voi che lo trova invece bello e gli piace. Allora eccolo qua. Pokémon letteralmente porta chiavi. Proseguiamo. Salve! Spediamo questo allenatore, questo avicoltore che manda in capo Noctowl. Perfetto. Noi abbiamo Greninja con Geloraggio. Quindi se la vedrà un po' brutta questo Noctowl. Dovremmo insegnare un attacco di tipo guio a Greninja effettivamente per sfruttare la sua stab al posto di round. Ma io ho Nero Pulsar. Fatemi un attimo vedere se ho Nero Pulsar negli MT. Perché per me lo puoi imparare Nero Pulsar. Vediamo eh. Vediamo un po' se troviamo. Ecco guarda Dark Puls. Appunto. Dimmi che lo puoi imparare. Lo puoi imparare. Perfetto raga. Cioè Dark Pulsar al posto di round. Cioè subito. Subito. Ok. Molto meglio. Sfidiamo questa bambina. E distruggiamo i suoi sogni di allenatrice. Perché siamo cattivi. Maialin. Come si chiamano? Maialin. Ok. Maialin. Non so come sia per una pronuncia di quella... di qualcosa. Allora Dark Puls no su di lui perché è di tipo folletto. Anzi cambiamo proprio Pokémon. E direi di mandare Pikachu contro The Den. Thunder Shock. Non ci fa nulla. E noi rispondiamo con un Thunder Punch invece. Oh non l'abbiamo ammazzato eh. Cioè Pikachu. Davvero scarso in questo momento. Andiamo di Electro Ball. Perfetto. Poi Aromatisse. Tipo folletto. Mandiamo... Oh Lucia. Anche se tecnicamente sarebbe meglio mandare... No oddio no. Non è meglio mandare il buon Greninja. Perché adesso è di tipo buio. Quindi il tipo folletto lo disintegra. Cioè tutti i miei Pokémon vengono disintegrati dal tipo folletto. Asha ha fatto delle squadre davvero squilibrate comunque nelle ultime regioni eh. Cioè in Unima la squadra era squilibrata. In questa... in questa regione a Kalos la squadra è squilibratissima. Cioè contro il tipo elettro non ha niente. Contro il tipo folletto perde tipo tutti i Pokémon. Cioè forse Tano Flame rimane. Tanto l'obbetto si schiude e... arriva all'ultimo membro della squadra di Ash. Noibat. Che è un altro Pokémon di tipo Drago mi sembra. Quindi anche lui contro il tipo folletto fa poco e niente. Allora diamogli il condivide esperienza. Ce l'abbiamo qui sopra sì. Ne abbiamo quattro ormai di condivide esperienza. Poi mettiamolo davanti. Anzi no se gli viene dato il condivide esperienza lasciamolo pure nella retrovia per un po'. Poi volevo solamente dargli un'occhiata. Esatto volante Drago. Quindi anche lui il folletto viene... lo prende proprio in quel posto così come è il tipo elettro. Allora... Abilità Infiltratore. Ok. Poi... Amo come mossa Assorbimento. Supersuono. Azione Acrobazia. Li toglieremo tutto tranne Acrobazia. Molto probabilmente. Però per adesso lasciamolo lì a fermentare un po'. Lasciamolo... Lasciamolo lì a prendersi un po' di punti esperienza. E vediamo un po' che cosa si impara lui per i cavoli suoi. Is that a Pikachu? Certo che ho un Pikachu. Caro gentiluomo Frank. Oddio ma tu hai sei Pikachu? Allora iniziamo a distruggere questo Consurf prima di tutto. Ad annegare questo Pikachu Consurf. Ed ecco che Noibut inizia a prendersi un po' di livelli. Si raffica al posto di azione va bene tanto non cambia nulla. Il gratturirà comunque tutti con gli attacchi. Poi Noibut se non sbaglio dovrebbe essere un attaccante speciale tecnicamente no? Altro Pikachu. Lasciamo Graninja. E andiamo di surf di nuovo. Perfetto. Altri livelli per Noibut. Altro Surf. Wing Attack. Ecco già meglio di Ghost quindi lasciamo lì Wing Attack. Poi altro Pikachu. Andiamo di surf. Ho il nuovo Pikachu. Niente questo ha davvero sei Pikachu. E perlomeno ha permesso al mio Noibut di crescere praticamente subito a livello 20. Con tutta questa vagonata di esperienza. Eccolo qua livello 20. Vorrebbe imparare Morso. Sicuramente meglio di Supersuono. Perfetto. Ah di qui non c'è nulla. Di qua c'è una sfida in doppio. Graninja e Talon Flame direi che ci possono stare. Dai andiamo con loro due. E spediamole. Però dobbiamo andare anche in alto a vedere cosa c'è a nord. perché non abbiamo visto cosa c'è a nord. Talon Flame e Greninja. Allora. Andrei di Dark Pulse su Banette. e di Acrobazia sempre su Banette. E di Acrobazia sempre su Banette. Perfetto. L'ho disintegrato per fortuna. Per fortuna l'ho disintegrato subito. Ok. Noibut si prende un po' di punti esperienza. Acrobazia quasi uccide il buon Floette. Andiamo di Hydro Pulse e di Attacco Rapido. Semplice e veloce. Perfetto. Big Gun. Attenzione. Ok. Proseguiamo un attimo da qui. In questo qui sotto c'è qualcosa. Uno strumento. E infatti c'è uno strumento. E c'è anche un Pokémon Selvatico. Ed è un One Edge. Altro Pokémon Acciaio Spettro se non sbaglio. come Kleski. Che andremo a catturare. Ecco anche One Edge. Penso che sia uno dei Pokémon dal design più pigro. Che ci sono mai stati. C'è letteralmente una spada volante. C'è non c'è niente di particolare o altro. È una spada volante con l'occhio. Ok. Pipi up. E diciamo che nella stessa generazione in cui c'è come starter una rana ninja una volpe che è una strega e ha pure la bacchetta magica e un cacchio di armadillo che è un armadillo corazzato insomma una spada volante nella stessa generazione un po' stona non trovate. Qui troviamo un altro un'altra Pokémon ed un Lyopard Fuga Proteina Spediamo anche questo allenatore Un altro avvicoltore Orson che manda ai capo Starly Ma come fai ad avere Starly a livello 35 ancora? Ma non ti vergogni? Geloraggio Poi Strevia Ok ha tutta la linea evolutiva molto probabilmente allora ha già più senso 9 batte a livello 23 ed infine Staraptor Ancora Geloraggio Livello 42 per Greninja vorrebbe imparare il sostituto ma no non stiamo nel competitivo quindi non ci serve Air Cutter Potrebbe essere interessante al posto di Wing Attack per avere l'alternativa speciale Ora fatemi vedere un secondo se ora che è salito un po' di livello si può vedere più o meno che statistiche ha è sicuramente portato sull'attacco speciale perché come vedete ha a 33 di attacco speciale 24 di attacco e in più a 30 è vino attacco speciale dai c'è pure andata bene io quasi quasi a lui darei la natura quindi la la menta per farlo andare di natura modesta andiamo a dirla subito allora dovrebbe essere qui sopra no un po' menta 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 dove sei? ecco ti qua modesta vai perfetto e ora dovrebbe essere di natura modesta quindi il suo attacco speciale dovrebbe essere aumentato di più esatto 36 di attacco speciale e 21 di attacco normale proseguiamo qui abbiamo un altro strumento e un pokemon selvatico uno scorupi ok niente di che facciamo fuga ma qui abbiamo un super colpo roba inutile è un momento per parlare del nostro signore salvatore arceus ma questo è un testimone di giova versione pokemon scusami cioè luna come nel campo chimico come minimo mi aspettavo che almeno avessi arceus allora dark pools approvare ok mi ha fatto parecchio male andiamo di water pools perfetto potrebbe aiutarti ma anche no grazie parliamola di nuovo by arceus will we exist never forget that child ok esistiamo solo per la volontà di arceus va bene allora andiamo a sfidare anche questo allenatore questo ranger che ci dice di rallentare e va nel campo gabite che si prenderà un bel geloraggio nei denti buono geloraggio addio 9 batte a livello 25 perfetto proseguiamo e ci sono queste due bambine che non sono delle allenatrici ma ci daranno due megapietre la sciarpedonite e la camiruptite eccoci qui e siamo arrivati a fresco villa allora spero di potermi teletrasportare di nuovo qui ma in caso non è un problema ci rifacciamo velocemente la strada perché vorrei tornare un secondo alla ver a romantopoli qui per dare un'occhiata alla parte superiore del percorso che non abbiamo visto mi sembrava ci fosse un'altra parte tipo questa appunto e c'era uno strumento una macho brace ecco fatto e poi credo basta no abbiamo già fatto tutto qui si ok quindi torniamo velocemente a fresco villa ed esploriamola torniamo un altro con edge ma a noi non ci interessa particolarmente e tra l'altro una volta passata questa erba alta dovrebbe essere tutta derita la strada vedete che senza fare i combattimenti con i selvatici con gli allenatori cioè si fa estremamente veloce ok diamo un'occhiata a fresco villa vuoi imparare una mossa ancient power no grazie no grazie andiamo dal pescatore e ci dà uno slow bro unite niente male mentre tu che vuoi I hope you're careful going into the next route it's a cold and snowy place ok qui dovremo andare per andare avanti appunto nel prossimo percorso che ho detto che è un percorso freddo e pieno di neve quindi continuiamo prima ad esplorare fresco villa salve qui dentro vendono mumu milk se avete voglia comprateli ok qui invece ah un performer ha appena vinto una gara qui sembrava davvero felice probabilmente si parla di serena andiamo a vedere qui cosa vogliono salve ah questo è il movie maniac ok per rinsegnare delle mosse ad un nostro pokemon al prezzo di una heart scale poi andiamo un po' a dare un'occhiata invece di qua niente da fare con te qui cosa c'è invece big winner una big nut un nugget così a caso beh i soldi non ci mancano ragazzi tu invece cosa vuoi qui dentro sarai un altro ok movie the reader perfetto quindi abbiamo il movie maniac e il movie the reader qui a frescovilla a dendemil town perfetto abbiamo quindi esplorato anche questa parte della città e qui sopra abbiamo finito ok qui a frescovilla effettivamente non c'è niente da fare cioè ci passi e prendi gli strumenti che ci sono e poi vai nel prossimo percorso salve ah lei sta cercando di far crescere delle bacche però è troppo freddo per far sì che qualcosa duri a lungo e mi spiace allora proseguiamo quindi andiamo nel percorso 17 posto giustamente freddo e pieno di neve salve spediamo questa allenatrice victoria che ma nel campo smirgol oh no ci sarà ancora il bug dello schizzo vedrai vedrai ma ice beam le mostre tipo ghiaccio sono potenziate dalla grandine sapete che non lo so non credo però usiamo surf ah di poco eccolo eccolo bug di sketch però tecnicamente non dovrebbe succedere niente semplicemente appare quel messaggio d'errore il gioco va avanti ok poi usiamo un ice beam perché so che durante per esempio pioggia danza o giorno di sole durante appunto la pioggia e la siccità le mostre di tipo fuoco e acqua rispettivamente vengono potenziate qui abbiamo un scienziato allora contro lo scienziato direi di mandare il sedigo tiriamo un po' fuori questo pokemon che da un po' che non usiamo questi parlano tutti di foto sembra di essere tornati in un pokemon scarlato tutti con queste foto inutili tra l'altro cioè non gioca pokemon per farsi le foto allora andiamo di oltraggio fire spin giustamente non ci fa nulla e noi con oltraggio invece li facciamo un bel po' male e ci fa molto più male di fire spin per il dot in realtà dragon claw complimenti non mi aspettavo che tu usassi dragon claw cernigno tanto noi bat continuano a succhiare punti esperienza al resto della squadra qui troviamo del calcio e andiamo a sfidare questo fanta allenatore prima della caverna gelata be careful the cave is just as dangerous as the outside attenzione la caverna è pericolosa tanto quanto l'esterno va bene sfidiamo celso che manda in campo carnivine io ho lasciato sudedico davanti anche se è palesemente appunto troppo debole per combattere solamente per far riprendere un po' di punti esperienza e farle volvere spero mandiamo talon flame contro carnivine stockpile ok inizia a potenziarsi però noi facciamo una bella acrobazia dovrebbe farli parecchio male forse shottarlo no? di pochissimo peccato quello shotteremo nel prossimo turno allora cioè lo uccideremo nel prossimo turno andiamo di attacco rapido dite mi che sligo sale di livello perfetto livello 41 livello 41 anche per talon flame e pure 9 bazzali di livello perfetto poi swanna tipo acqua elettro cioè tipo acqua volante scusatemi stavo pensando al tipo da metterli contro ovvero l'elettro direi però di mandare in campo aulucha dato che pikachu comunque non è che abbia bisogno di chissà quanta esperienza swanna e tiriamo di contro una bella acrobazia quasi shottato ok ci ha quasi shottato pure lui fortunatamente rimaniamo in vita reggiamo anche la grandine e andiamo poi di acrobazia ecco fatto adios swanna e abbiamo battuto successo e slicko si evolve perfetto ragazzi otteniamo anche gudra quindi uno dei pokemon più forti di sesta generazione eccolo qui è anche molto bello a livello di design devo dire mi è piaciuto fin da subito fin da quando l'ho visto per la prima volta e vorrebbe imparare acqua tail ma il nostro gudra è speciale in teoria quindi beh possiamo ora togliere i rain dance che non serve più a niente andiamo di acqua tail allora adesso andiamo di là ok prima di entrare nella taverna gelata fatemi vedere un secondo se qui sopra c'era qualcosa a tra l'altro si incontrano dei pokemon selvatici qui c'è snover no voglio fuggire grazie ok non c'è nulla qui sopra perfetto voglio però tornare un attimo al centro pokemon per curarmi i pokemon alla faccia si trova memoswine qui quanti pokemon che avrei potuto catturare semplicemente aspettando invece di perdere tempo da allenarli per completare il live index ecco se volete farlo anche voi sappiate che basta aspettare e trovate davvero di tutto ci sono alcuni pokemon che non si trovano selvatici ce ne sono parecchi in realtà che non si trovano selvatici e che dovete per forza ottenere tramite evoluzione questo si però molti se ne troveranno vedrete allora sistemiamo clefki e onege 707 quindi te ne vai qui in teoria sei giusto tu sei 703 si e onege il 679 quindi 66 78 79 qui ok abbiamo preso anche loro due perfetto a questo punto ragazzi ritorniamo davanti alla caverna congelata ritorniamo appunto lì altro pokemon selvatico vediamo chi salta fuori abomasnow ok non ci interessa fuga sbaglio l'abbiamo ancora incontrato un pokemon di tipo ghiaccio della sesta generazione fuga e eccoci qui a questo punto ragazzi il video questa parte finisce qui vi rimando a domani sempre qui allo stesso giorno stessa ora cioè stessa ora giorno successivo per la prossima io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte che abbiamo appena affrontato e di fire rush in generale se volete e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti da glacial sphere è tutto al prossimo video